Domenica è Sant'Anna e do gli auguri a tutte le Anne del mondo, specialmente a te che mi hai chiesto, beh, gli auguri per la tua ragazza. Comunque io per il momento ti saluto. Ciao Anna, auguri e auguri a tutte le tante di Anne. Beh, ti fa per dire, a presto! Ho finito.